Bologna, 16 maggio 2023, il maltempo non dà tregua e molte amministrazioni hanno deciso di tenere chiuse le scuole anche mercoledì 17 maggio. Niente lezioni Bologna, in tutta la provincia di Bologna, Ravenna, Rimini, Riccione, nell'Unione dei Comuni di Romagna-Faintina e Cesena, nel Forlivese per quanto riguarda L. Emilia-Romagna, a Senigallia Iesi-Mille Marche. Stop alle attività scolastiche anche nella Repubblica di San Marino, aperte invece le scuole del Modenese. Lezioni online ed esami sospesi domani all'Università di Bologna. Vista prosecuzione delle gravi condizioni all'ERTA annunciate dalla Protezione Civile Regionale, il Comune Ravenna si legge nel comunicato ha previsto anche per domani chiusura servizi educativi, delle scuole ogni ordine grado compresa l'istruzione e formazione professionale, sono stati confermati anche le aggregazioni giovanili, i centri di urni per anziani disabili e i socio-occupazionali, confermata chiusura dei ciliteri e sospensioni mercatili. Maltempo Emilia-Romagna oggi diretta Maltempo a Bologna cosa sta succedendo e stessa decisione per i Comuni dell'Unione di Faenza. Nel Comune di Faenza saranno chiusi anche servizi educativi, servizi pre-doposcuola, di formazione professionale, centri di urni per anziani e disabili socio-occupazionali. Per domani scrivono da Faenza saranno chiusi anche tutti gli impianti sportivi comunali e sospese le attività sportive svolte al loro interno. Si consiglia alle altre società sportive, allo stesso modo, di interrompere per domani allenamenti, partite o altre iniziative 17 maggio 2023. L'ondata di maltempo che sta colpendo Emilia-Romagna e Marche aveva già convinto molti sindaci delle due regioni a chiudere precauzionalmente le scuole anche oggi, martedì 16 maggio. Scuole chiuse il 17 maggio in Emilia-Romagna Scuole chiuse anche domani mercoledì 17 maggio a Bologna e in tutta la provincia di Bologna. Ieri il primo comune che ha fermato le lezioni per oggi è stato quello di Ravenna. E lo stop alle lezioni è stato prorogato anche per domani a Ravenna, e ai comuni della Romagna-Faintina. Anche Cesena e i comuni del Forlivese sospendono le lezioni per domani. Anche domani, mercoledì 17 maggio, le scuole del comune di Cesena saranno chiuse. Lo ha annunciato in diretta Facebook il sindaco Enzo Lattuca. Non ci sono condizioni di sicurezza. Probabilissima chiusura per le scuole anche nel resto del territorio della provincia di Forlì-Cesena. A causa questa nuova allerta, la chiusura dei servizi educativi, delle scuole ogni ordine grado compresi i centri formazione professionale, delle palestre scolastiche degli impianti sportivi comunali con sedi nel territorio comunale ha spiegato il sindaco Forlì-Zattini nonché chiusura al pubblico della Biblioteca Saffi, tutte le biblioteche decentrate, dei musei civici Palazzo Romagnoli San Domenico dell'Oratorio San Sebastiano. Alla luce del permanere condizioni meteorologiche particolarmente avverse della temporanea indisponibilità di